Bentornati, oggi parleremo brevemente di una delle prestazioni creditizie finalizzate all'erogazione di finanziamenti a tassi e condizioni agevolate in base ad un regolamento che ne stabilisce come potervi accedere, che sono attinenti al fondo credito dei dipendenti e pensionati del pubblico impiego, la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. La prestazione appunto di cui parleremo brevemente oggi è quella dei mutui ipotecari. Questa prestazione è rivolta unicamente a coloro che sono iscritti, quindi che hanno una contribuzione attiva a questo fondo credito dei dipendenti pubblici e trattasi di un mutuo con ipoteca su immobile. è possibile richiedere questo mutuo per l'acquisto di un'unità abitativa, per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria e anche per l'acquisto di un box o di un posto auto. Il tasso a cui poter accedere a questa prestazione può essere fisso o variabile e viene determinato in base al rapporto tra l'importo richiesto e il valore dell'immobile. In merito alla durata dei mutui ipotecari c'è la possibilità di scegliere da 10 a 30 anni con intervalli di 5 anni, quindi 10, 15, 20, 25 e fino a 30 anni e per un importo massimo di 300 mila Euro, la cui rata annua non deve essere superiore al 50% dell'imponibile lordo annuo familiare. Ma veniamo ad alcune novità di questa prestazione che saranno introdotte a partire dal nuovo anno, quindi dal mese di gennaio del 2019. Queste novità hanno a che fare in prima istanza con l'ampliamento del termine di presentazione della domanda che non è più nei primi 10 giorni di ciascun quadrimestre, ma è bensì dal 15 gennaio al 10 ottobre di ogni anno. La seconda novità riguarda la possibilità del rimborso del mutuo, non più con rate semestrali, ma bensì con rate trimestrali. O anche, solo per i mutui con tasso fisso, la possibilità dell'addebito della rata sul conto corrente bancario o postale intestato al mutuatario. L'ultima e anche molto importante novità riguarda una nuova casistica in aggiunta a quelle dette precedentemente per la richiesta del mutuo. Questa casistica è legata al diritto allo studio. Infatti per l'iscrizione o frequenza in Italia o all'estero sia dell'iscritto sia di un componente del nucleo familiare a corsi universitari, post laurea, master o anche a corsi nei conservatori di musica, accademia belle arti o istituti di formazione professionale con titoli legalmente riconosciuti è possibile accedere a un mutuo ipotecario. Ricordiamo che ogni informazione e anche la possibilità di fare domanda è appunto sul sito, quindi domanda telematica, ricordiamo dal 15 gennaio 2019. Per ogni altra informazione rimandiamo al nostro sito www.inps.it. Grazie per l'attenzione.